Salve a tutti ragazzi e bentornati qui con God of War 4, abbiamo fatto appena una battaglia evica con lo sconosciuto e ora dobbiamo andare verso la montagna a portare i ceneri di nostra moglie, diciamo così, di sua madre, sopra la montagna Queste sono tutte le crepe, chi era? Non lo so Che cazzo di battaglia sta crepa è fatta, cioè l'ambiente è questo, è dovuto alla battaglia Un po' di morire, sì Non lasciarmi più solo, va bene Va bene Su Hai già ucciso delle persone Sei abituato Se serve per sopravvivere A voglia te Sono cibo I drogher sono già morti Ma le persone Anche loro vogliono sopravvivere Chiudi il tuo cuore Chiudi il tuo cuore Vero Chiudi il cuore alla loro sofferenza Non può permetterti di provare vietà per loro Giusto Giusto Bravo Bravo Qua che acciaio? Sì ma come potenziali le armi, eh? E le combo Mi puoi dare una mano? Posso avere una visuale migliore Vieni Oh Ok Da qui non si va da nessuna È solo questo cuore Oh 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 bella sta cosa della spada che congela bello presecchio ah quello giusto gli uomini non dovrebbero pregare dei vostri ma è giusto il spazio e risaliamo questo è quando ho un cominciò mette qualche combo in più davvero non ricordo la prima oretta è stata fega a voi e a te amici no vorranno rapinarci forse si no sei venendo qua solo scusami no andiamo giù c'è stata qua la cassa come cazzo lo vive quella cassa saltando qua no vedi è facile vabbè non serve più il ponte ma sicuramente già posso modificare qualcosa se no con l'acciaio potrò trovare solo mi aspettavo un tutorial no minchia il viaggio è lungo è bellissimo guarda ma che per tutto il tempo un cerchio di alberi magici ha protetto il bosco ma laggiù il cerchio è interrotto li hai tagliati tu ha scelto lei quelli da usare per la sua pira ah quelli con la mano non è sua andiamo basta pensare al passato esatto posso fai niente avanziamo quando arriveremo sulla montagna vieni a voi a te prima dell'inverno non lo so ok ok troppe domande zio limitare della foresta selvaggio al mio segnale infatti questo è diverso boom da sinistra altri droghi perché questo è rosa dietro di te dietro di te morco due sono riuscati lo sa morco due indicatore minaccia sì sì ci ho fatto vado ah ok io la proiettina arrivo finito altri nemici attento dietro attento dietro No, bruttissimo Altre nemici? Signor C No Mantieni la pressione Tosta Palle di fuoco Esatto Guarda qui Sì C'è un villaggio Jotner Jotner? Giganti Conosci altre lingue? Un po' Solo quelle che sapevo Ma sono tutte collegate Quindi a volte riesco a capire cose che non dovrei sapere Sai Ho dovuto accanare in realtà Qui c'è un po' di vita Chissà sta toccanata qua No, ho chiuso qua Dove sono castratore? Ah, però No, io so finuto Ok Lo seguiamo Chi è sempre chiuso Fico, belli combattimenti Fico, fico, fico Ok Continua verso Buongiorno 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 E vaffanculo Cerchi di cadere il loro attacco di ghiaccio Ehi Non è un forziere quello Certo è un forziere Quello è bello Cos'è? Attacco l'unico leggero Una rapida scarica Di ogni gioco E ferma le spiglie Tutte le mie vicine E tu non la giama D'attacco l'unico Tocco di herda Legge Tiene premuto L1 Più R1 Ah, ok Utile E questo che? Manico di legno Ah, è dell'acero Poi ci abbiamo messo Stare una Ok, ok Ok L1 Più R1 Fermo Dov'è qui? Va bene Come on Ma come hai fatto? Passato Forza Grazie Ecco la montagna Andiamo Aspetta Fermata E' a posto Ecco Sì, sì Vedi? Padre, aiuto Tieni duro Presto Non ce la faccio Stai calmo Ci sono quasi Ah, perco Due Non ci è andata male Vacci piano La fretta ci costerà cara Scusi Scusi Altri drogher Non si muovono Sono morti Cioè Più morti Ragazzo Non sono per niente morti La difficoltà Mi c'è Presenza Al colore Del numero Viceno Ah 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 Il burro Si è fortissimo Ricorda Preciso E senza fretta Non basta No Ok Ok No Gio finira Ok Grazie a tutti. 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 Guarda qui. Leggi. Oh, un tempo era un mercato. I giganti venivano per commerciare con gli dèi tanto tempo fa. Chissà, forse anche Udino. Sopra di noi, sta sbucando dal muro. Sta sbucando dal muro. Dove è un'altra, 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 un'altra. Un'altra, un'altra, un'altra. Oh ma quanti sono? Ma quanti cazzo sono? Ma quanti cazzo sono? Ah ho capito ma sempre aiuto Se posso potenziare o abilità questa Se lo fa Ah ok vedi? Vedi? Finisce bene R1 R1 R2 Utile lo metto già adesso Alla prossima 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 E mori Alla prossima E qua Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Prima Eccola Alla prossima 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 Prende Alla prossima 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 Alla prossima